Scenderà su un manto bianco di neve affrontando di certo qualche difficoltà legate al vento previsto in rinforzo per la giornata di domani, ma la Befana state certi ci sarà a Gubbio come a Gualdotadino. Sarà quella animata dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Gubbio e di Gifana che come ogni anno tornano nelle piazze per la gioia dei bambini. A Gubbio l'appuntamento è per le ore 11 e 30 in piazza grande quando la simpatica vecchina scenderà a Valcioni della sua scopa dalla torre di Parazzo dei Consoli, un salto non indifferente di oltre 30 metri che terra tutti con il fiato sospeso e il naso all'insù per qualche minuto. Dal suo sacco una pioggia di caramelle per tutti gli istanti e il suo arrivo in piazza sacchetti con dolciumi per la gioia dei bambini. Saluto del capo di staccamento Primo Lupattelli alla presenza dei rappresentanti provinciali e regionali del corpo. Il gruppo sbandieratori di Gubbio saluterà il pubblico con i suoi giochi di drappi e colori, la prima sbandierata per loro in questo 2017 che segna il 48esimo anno di attività. La Befana arriverà anche a Gualdo Tadino ma un po' più tardi nel pomeriggio a partire dalle ore 17 in piazza Martiri della Libertà. Già dalle 16 i volontari della Croce Rossa italiana in collaborazione con l'Unitalsi distribuiranno calze piene di dolce e bambini presenti. Poi dalle 17 dalla Torre Civica il volo della nonnina il cui ruolo è interpretato come ogni anno da un valente vigile del fuoco. Ma il giorno dell'Epifania è anche e soprattutto il giorno dell'annuncio della nascita del Salvatore a tutte le genti con il dono dei Re Magi all'umile capanna. A Gubbio sull'ora dell'imbrunire torna il presepe vivente del quartiere San Pietro che tanto successo ha riscosso nella sua versione natalizia. In piazza San Pietro la scena della natività e poi le suggestive rappresentazioni in costume medievale lungo alcuni vicoli del quartiere, in particolare lungo la pittoresca via Aquilante dove antichi mestieri e figuranti si alternano nel fascino delle pietre e degli addobbi. A Gualdo Tadino presso gli orti del Bambin Gesù l'associazione Capezza invita tutti alla revocazione in costumi quattrocenteschi con il corteo dei Magi che da Piazza Martiri alle ore 17 e 30 salirà verso la Rocca. Non mancheranno anche tanti altri eventi a teatro in particolare con al Ronconi di Gubbio alle ore 21 la prima delle tre serate di Trittico Barocco con l'etual Giuseppe Picone a fianco della ballerina Candida Sorrentino, madrina d'eccezione sul palco Eugubino sarà Carla Fracci. A Gualdo Tadino al Talia alle ore 18 invece concerto della banda musicale diretta dal maestro Sesto Temperelli. Rinviata a Gubbio ha data da destinarsi la premiazione del concorso dei presepi. Il maltempo previsto anche per domani ha convinto gli organizzatori a posticipare l'evento.